Presentato a Teramo dalla regione Abruzzo il bando concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzano investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma. 3 milioni e 250 mila euro più 900 mila circa dai bandi in vitalia. Sono questi i fondi recuperati da bandi precedenti per sostenere attività commerciali, industriali e artigianali, in particolare per coloro che aprono attività nei centri storici delle aree del cratere. Sono 3 milioni e 250 circa a cui si devono aggiungere, stiamo aspettando la quantificazione da parte di in vitalia, gli ulteriori fondi che residuano da uno dei bandi emessi in passato, quello in parteo di in vitalia, avevamo anche spesso contestato che erano fondi rimasti fermi perché gestiti a livello nazionale da in vitalia questi bandi non riuscivano a cogliere le specificità del territorio. Sono fondi che abbiamo recuperato grazie a un articolo inserito su nostra richiesta nel decreto legge 3, quello sulla ricostruzione che è stato uno dei primi atti appunto, il decreto legge 3, lo dice il numero stesso, quanta priorità abbia avuto il tema della ricostruzione nel governo Meloni, che ringrazio perché ha ascoltato il territorio, abbiamo presentato, raccolto, scritto noi con l'ufficio speciale guidato dal direttore Vincenzo Rivera il testo di questa norma che ha consentito di recuperare fondi rimasti non utilizzati in avvisi e banditi per contributi negli anni precedenti e che oggi vengono rimessi a disposizione del territorio per sostenere le iniziative commerciali, industriali, artigianali e comunque economiche con particolare attenzione verso i centri storici. Le domande al bando per accedere alla possibilità di ottenere fino a 200.000 euro in tre anni potranno essere presentate fino al 19 dicembre. Il modello è tipo quello di fare centro dell'Aquila, con particolare attenzione e premialità per chi vorrà aprire attività nei centri storici. Abbiamo dei precedenti che aiutano a capire qual è la dimensione dell'intervento e anche il tipo di effetto. Il bando fare centro utilizzato utilizzando i fondi Restart per il sisma 2009 all'Aquila ha riportato decine di realtà commerciali all'interno del centro storico. Abbiamo un po' ripreso questo modello cercando di calarlo nella specifico contesto del sisma 2016 e quindi dell'altro cradere sismico. Pensiamo di poter ottenere gli stessi risultati.